Al congresso nazionale AMD questa mattina si è parlato di attualità nel trattamento dello scompenso cardiaco e da cardiologo io sono stato appunto invitato a tenere una relazione su quella che è un'arma farmacologica a nostra disposizione che sono gli inibitori degli SGLT2 che nascono come farmaci ipoglicemizzanti che hanno dimostrato una efficacia nel ridurre gli eventi di mortalità cardiovascolare e di ospedalizzazione per scompenso cardiaco nei pazienti diabetici e non. Quindi questi farmaci permettono di impattare sulla prognosi dei nostri pazienti con scompenso cardiaco e per la prima volta oltre a avere questo impatto nella riduzione degli eventi non solo nei pazienti con scompenso cardiaco a frazione diiezione ridotta ma anche nel fenotipo FPF che è il fenotipo di scompenso cardiaco a frazione diiezione preservata per il quale non avevamo degli strumenti farmacologici che avevano dato risultati in termini di riduzione degli eventi. Alcuni trials condotti in pazienti con FPF in presenza o meno di diabete di tipo 2 hanno dimostrato che questa classe di farmaci, in particolare le gliflozine, cioè l'empagliflozina e la dapagliflozina sono in grado di ridurre gli eventi cardiovascolari in questi pazienti. Noi diabetologi abbiamo finalmente scoperto l'importanza dello scompenso cardiaco quale complicanza è estremamente frequente nelle persone che seguiamo affette da diabete ed è importante sottolineare il nostro ruolo che può essere quello di una diagnosi precoce che oggi è possibile usando dei marcatori specifici che ci aiutano semplicemente ad avere l'idea di cosa è la situazione e quindi procedere con un approfondimento diagnostico. Interessante sessione oggi al congresso nazionale dell'AMD, dei medici diabetologi italiani sulla connessione tra diabete ed insufficienza cardiaca. Una connessione molto stretta, si è affrontato il discorso dello screening in questi pazienti, quindi di uno screening biochimico attraverso la valutazione dei peptidi natriuretici ma anche la necessità di integrare lo screening di laboratorio con un inquadramento più generale del paziente. Abbiamo poi parlato molto di terapia farmacologica e non, di come ci siano a disposizione ormai non solo i quattro pilastri ma una serie di altri trattamenti, sia farmacologici che non, che devono essere messi a bordo di questi pazienti. È una patologia, quella dell'insufficienza cardiaca, ad alta prevalenza nel paziente diabetico. Circa il 30% di diabetici hanno un quadro di insufficienza cardiaca e viceversa. Pazienti con insufficienza cardiaca hanno in un 30% circa una problematica di diabete e quindi vi è la necessità ovviamente di focalizzare l'attenzione da parte dei vari specialisti e di effettuare un lavoro multidisciplinare su questa tematica. La sessione sulle tecnologie si è focalizzata oggi sull'importanza di un uso appropriato, di quelli che sono gli strumenti tecnologici che ci permettono di seguire il nostro paziente diabetico tipo 1 in particolare per riuscire a raggiungere gli outcome clinici e garantire anche una qualità di vita migliore che permetta alle persone con diabete di poter svolgere le loro funzioni quotidiane. In particolare si è discusso rispetto a quelle che sono le opzioni relative al monitoraggio continuo della glicemia e i moderni sistemi di erogazione della terapia insulinica con uno slancio anche verso quelle che sono le opzioni future, futuribili che ci ospichiamo potranno supportare la terapia nei prossimi anni. La formazione è un fiore all'occhiello per AMD, ma la formazione è un tema veramente complesso con diverse sfaccettature. Quello che noi abbiamo affrontato nella giornata odierna sono proprio gli aspetti manageriali della formazione che grazie alla collaborazione tra AMD e l'Uk Business School attraverso il progetto SCORE ha potuto formare 65 partecipanti nel corso del 2022 e ulteriori 30 partecipanti nel corso del 2023. Abbiamo affrontato tutti i temi e abbiamo capito quanto sia importante la collaborazione multidisciplinare sotto questo punto di vista. È per me un onore e un piacere rappresentare la presidenza dell'Associazione Medici Diabetologi in chiusura di questo 24esimo congresso nazionale. Ringrazio di cuore il presidente Graziano Dicianni che in questi due anni ha guidato con maestria, responsabilità e condivisione la nostra società e cercherò di essere all'altezza di quanto lui ha fatto nel precedente biennio. Le nostre direttrici sono delineate dalle 4C, cronicità, condivisione, continuità, comunicazione. Riteniamo che la condivisione con tutti i soci, con i direttivi e i presidenti regionali delle varie attività sia un aspetto fondamentale per garantire a pieno una rappresentatività nella nostra associazione. Riteniamo che la gestione non solo del diabete come malattia cronica ma anche delle altre cronicità che accompagnano la persona col diabete abbia necessità di una risposta competente ma anche organizzata da parte dei diabetologi e la nostra associazione intende proporre dei modelli organizzativi che diano questa risposta. E infine la comunicazione e la continuità. Far sapere ai soci cosa MD fa è un aspetto importante. comunicare alle persone che cos'è il diabete, come si può prevenire, come si può curare, come si può gestire ma anche dare continuità al lavoro fatto in questi anni dalla nostra società riteniamo che sia un aspetto fondamentale da preservare nel prossimo biennio. Grazie a tutti.